I gradini di questa scala economica e sociale però a un certo punto ti fermi, il personaggio si ferma. Il personaggio si ferma ad un certo punto nella sua scalata, quando ormai in teoria dovrebbe essere arrivato. Si ferma perché realizza. È un po' l'errore che facciamo spesso, ahimè, ognuno di noi. Pensiamo di non stare nel posto giusto, nella situazione giusta, che la nostra vita sia sbagliata, che c'è qualcosa che non va, che qualcosa vorrebbe andare meglio. E questo è quello che pensa lui. Lui in realtà Mauro parte da una condizione nella borgata, in cui tutto sommato è più che felice, perché è innamorato di sua moglie, interpretata Giulia Bevilacqua nel film. C'è un rapporto puro con questa nuova amicizia che inizia istintivamente e poi si consolida con il personaggio di Marcello, che è interpretato con Nicio Macchioni. Però lui idealizza questa felicità, la vita facile. Lui la idealizza come la felicità assoluta lassù, dove cerca di arrivare e dove arriverà. Quindi a un certo punto lui si ferma perché realizza che probabilmente non c'è capito nulla della sua vita. Perché tanto valeva, come dice Sidi nel libro, a portentarsi delle borgate, dove quantomeno c'era la realtà, la reale felicità della propria esistenza. Abbiamo parlato della tua compagna, la prima volta che facevi un film con lei ma l'avevi già conosciuta prima. Sì, Giulia Bevilacqua. Noi abbiamo fatto tre anni di centro sperimentale insieme. Sono stati tre anni importanti. Tra l'altro la nostra classe ne dovreste conoscere tanti. C'era Alessandro Roia, erano il nostro stesso compagno di corso, Valentina Lodovini, Alba Huovac, se non ricordo male si pronuncia così, Alba Rorvager. È chiaro che lì sono anni importanti, anni di formazione e anni di crescita, perché comunque eravamo tutti ventenni. Quindi incontrarsi poi su un set e ti rendi conto che non è più un gioco, perché poi fondamentalmente la scuola è un gioco. Fondamentalmente questo lavoro è un gioco.